Hello, hello, hello you guys, welcome, welcome, welcome back, qui su Elena Tionelty Life Coach YouTube Community, e mi indiano al piccolino, io abbiamo con il mio bimbo. Hello, you guys, questa mattina su Roma c'è stato un forte, forte, forte numifragio, almeno nell'area dove ci troviamo io e quel tuo tesoro, e questa mattina ho lavorato con diversi di voi in sessione. Ah, grazie per la tua partecipazione tesoro, io sono sempre Elena Tionelty, by the way, la vostra MindBody, Mindset, Manifestation Coach, siete su un canale che tratta di manifestazione intenzionale consapevole diretta sugli insegnamenti originali di Neville Goddard, ci basiamo, ci basiamo sulla neuroplasticità neuronale, Io sono primariamente un coach, quindi mi occupo di aiutare le persone a guarire da dolore nociplastico come vulvodinia, fibromialgia, altri tipi di espressioni in MindBody Syndrome, Obtention, Mind Neural Syndrome, TMS, e opero dal 2012 come coach, professionista e trainer pluricertificata. Detto questo, questa mattina ho lavorato con diversi di voi in sessione, mi hanno fatto sessioni telefoniche questa mattina, e per questo motivo ho deciso di girare un video anche oggi, vi arriverà insomma a metà giornata la notifica, Quindi se ancora non l'avete fatto, ovviamente attivatevi le notifiche, dovete essere ovviamente iscritti al canale, perché insomma, all'interno della manifestazione con la legge di assunzione, Un modo differente ovviamente da chi non conosce la creazione intenzionale consapevole e non sa che noi praticamente a ogni istante nuovo creiamo e ricreiamo le situazioni, le circostanze, le persone. Oggi per esempio la fisica quantistiche ce lo descrive in maniera abbastanza netta, ed è pazzesco quello che hanno scoperto i fisici che hanno creato diciamo questo filore della fisica. Ed sono peraltro conoscenze che sono nel patrimonio dell'umanità, dagli albori dell'umanità, perché per esempio l'altro ieri uno di voi, Patrizia, commentava dei video e parlava di una corrente del buddismo, c'è il commento pubblico, dove viene utilizzato un linguaggio simbolico poetico, come lo chiamo io, per descrivere quelli che sono le realtà infinite, il regno delle tremila possibilità, era l'espressione, cioè Patrizia se guardi questo video, infinitamente grazie insomma per quel commento. Allora che succede? Ho deciso di shottare questo video perché noto uno schema in molti di voi e vorrei insomma evitarvi questa sofferenza perché non avete nulla di cui preoccuparvi. nel caso in cui sorge molto spesso questo tema voi, siete stati voi che avete fatto qualche cosa che giudicate talmente tanto forte, intensa, tanto che questa è diciamo la scusa, la leva che la mente di sopravvivenza utilizza per dire allora se è così questa persona fondamentalmente non riesco, l'ho tradito talmente tanto la sua fiducia che sono qua per dirvi che potete tranquillamente prendere anche questa idea e buttarla dove le compete nel cestino della spazzatura. e se quindi utilizziamo qui le domande se mi ha mandati in una direzione positiva e se la tua persona specifica ti amasse incondizionatamente? come sarebbe? se vuoi puoi rispondere a questa domanda qui sotto nei commenti. Durante queste sessioni mi accorgo sempre più spesso tantissime persone vengono catturate nel passato, nelle loro reazioni rispetto alla loro persona, come per esempio, ma io, non lo so, ho avuto degli scatti con questa persona talmente tante volte che magari si è stufato, ho commesso talmente tanti errori, la persona non mi perdonerà mai, sono stata ossessiva, mi sono comportata così, ma io qui, ma io lì, ragazzi, ragazze and everything in between. non esiste passato. Voi ricostruite la vostra realtà e entrate in versioni di realtà a volta per volta. Quando entrate nella creazione diretta, intenzionale, consapevole, dovete ricordarvi questa cosa qui. Non importa quello che è successo un attimo fa, ogni attimo è nuovo. Ok, quindi potete pure fare saltare tutto, cioè l'idea è quella di evitarlo, chiaramente, quindi imparare una processazione emozionale, ma per voi stessi, per stare tranquilli e in pace perché è il nostro stato naturale, però sono qua per dirvi che non succede niente, potresti aver fatto x, y, z, siete esseri illimitati, quindi se siete preoccupati, se sei preoccupata che la tua persona non voglia più avere a che fare perché è successo x, y, z, poi potete tranquillamente tagliarvi questa preoccupazione, non esiste, le circostanze non esistono. Se siete ancora, se sei ancora catturata da questi vecchi modi, ancora non hai compreso come funziona la manifestazione, ma mi ha detto x, y, z, e allora? Ogni momento è nuovo, tu decidi l'esito degli eventi. In un attimo potresti avere una conversazione fantastica, un momento dopo ti sposti in una versione di realtà in cui quella conversazione non è nemmeno mai esistita, la persona non si ricorda nemmeno di averti detto determinate cose, allora utilizza questo a tuo vantaggio. Se è successo un qualcosa che non ti piace, sia che l'abbia fatto tu, sia che l'abbia fatto l'altra persona, eccetera, revision on the spot, you guys, se siete potenti, siete illimitati, non è vero, non è mai accaduto, non è mai successo. Florence Cavershin, ciò che non è mai accaduto nel regno, nella tua divina immaginazione, dentro di te, non è mai accaduto. L'altro ieri, no, ieri, mi è capitato di vedere un video estero, clickbait, di due personaggi femmine, che francamente il titolo era, se mi ricordo bene, Ah, parliamo del fatto di, se tolgo, se distolgo l'attenzione da lì, sparirà, parliamone. Con due facce corrucciate. Io lo so, perché sono tantissimi, i ragazzini e le ragazzine che, queste due persone hanno un training in P&L, e allora hanno solo un training in P&L, però è già qualcosa. Certo, no, no, se tu distogli la tua attenzione da qualcosa, ma devi distoglierla completamente, quella cosa sparisce. È così facile fare sparire una versione meravigliosa della realtà, perché non dovrebbe essere altrettanto facile fare sparire cose indesiderate, perché la tua mente ha deciso che ti meriti il meglio, giusto, e non sravani nello schifo. Quello che è accaduto cinque minuti fa, un attimo fa, non conta. Conta quello che tu fai volta per volta. Quindi, francamente, quando entri in questa cosa e ti accorgi che così, puoi fare tutta l'appidenza del mondo, scaricarti, sfogarti, eccetera. E questo è fantastico perché possiamo fare un lavoro potentissimo con le emozioni. e quando hai finito, ti sei sfogato, hai fatto tutte le tue cose. Eccolo lì, torni bello, sorridente e decidi. Quel momento in poi le cose stanno così, sul momento, i tuoi pensieri del momento, living in the now, vivere nell'adesso, il potere di adesso. Non importa quello che è successo, lo devi cancellare, devi lasciare andare. Lascia andare, figliola, figliola, quello che non ti serve più. Anche se il tuo karma fosse così, esiste la legge di liberazione dal karma, la misericordia. Revisiona, non è mai accaduto. Quindi comincia ad incarnare te stesso e te stessa in una realtà differente. Come? Decidi che è così. All'impreviso, come in Star Trek, quando hanno energia e vengono trasferiti direttamente nel posto dove devono andare. Stessa ed antica cosa. Entri nella versione in realtà dove tutto è risolto, tutto a posto, è già fatto, creation is finished. La creazione è già pronta, è già terminata, è già così. Lo decidi, lo decidi, semplicemente decidi che ora le cose stanno così. Hai bisogno di me che vengo a dirti, guarda adesso le cose si sono risolte perché ho parlato con la tua persona. È tutto a posto. Hai bisogno di qualcuno che venga da te a dirtelo? Decidi. Sei amato o amato incondizionatamente? La persona si comporterà così con te, ti tempesta di bellissimi messaggi, ti ha chiesto di sposarvi. Non voglio che tu guardi indietro il tuo passato, specialmente quando entri nella manifestazione per torturarti ancora di più. Quindi affronteremo questo e molti altri argomenti hot su cui vedo le persone che sbattono la testa veramente, ci sbattono contro, soffrono inutilmente nella mia masterclass in cantesimo. In cantesimo è composta di quattro moduli, 31 video lezioni e un fantastico workbook per fare tutta una serie di pratiche che non troverai altrove perché all'interno ci sono anche le mie pratiche somatiche che ti servono, specialmente quando entri nella legge degli assunti e sei un po' spaesata da tutta questa cosa, devi ancorarti al corpo in un modo funzionale, devi staccare il significato da determinate sensazioni di allarme in cui entri al sistema nervoso, hai bisogno di imparare a resettare, a calmare il sistema nervoso, quindi lavoreremo con i trigger, che nel mio metodo si chiamano dico, e ami, esche questi uncini che ti attaccano, le chiamano anche ganci psichici in altre tradizioni, devi lavorare con queste cose perché altrimenti ti diventa una tortura questa situazione, invece noi vogliamo creare una cosa, la cosa più piacevole e fantastica che sia mai accaduta nella mia vita. Lavoreremo moltissimo anche con l'energia dell'attivazione del piacere perché è fondamentale, di cui non parla mai nessuno, quindi abbiamo dei contenuti esclusivi estremamente ricchi all'interno di questa masterclass che ho voluto creare che parte domani. In cantesimo, la tua partnership perfetta, attenzione, perché ancora ha soli 97 euro in early bird. Questa prova, l'early bird scade domani a mezzanotte, quindi prendila subito, iscriviti immediatamente al corso perché poi il prezzo salirà al middle price ancora per un'altra settimana e poi dal 15 andrà in full price. Quindi non voglio che tu, questo non è modificabile, è manifestabile. Voglio dire, manifestati che prendi questa incredibile early bird perché veramente è una cifra pazzesca. Nemmeno io so perché l'ho messa così bassa per un contenuto così potente, però ti ripeto, scade domani a mezzanotte, quindi se vuoi veramente fare un lavoro che ti renderà infinito bene, per infinite vite a venire, iscriviti alla masterclass subito, prendi subito il tuo posto e che non voglio che tu abbia regrets, ripianti dopo, però non averlo fatto dopo, anche perché questa prova non credo di ridarla al minimo per altri sei mesi. Quindi voglio veramente che tu possa approfittare di questo e che possa incarnare la versione più piacevole, divertente e facile della tua vita ora, grazie all'aiuto di questi strumenti che non troverai altrove perché la maggior parte dei Fuffa Coach non è né abilitata ma nemmeno conosce queste pratiche somatiche e per sganciare il significato dalle sensazioni corporee. Faccio questo dal 2012, quindi ho una grande, grandissima esperienza sia su me stessa sia con migliaia, migliaia, migliaia di persone sofferenti di dolori atroci, dolori fisici, cronici, ok? E naturalmente ci vuole molto allenamento per lavorare con queste cose, quindi approfitta adesso se hai delle specifiche richieste in verito a come funziona il corso, come oltre insomma a quello che trovi sulla pagina di iscrizione, puoi lasciarmi un commento qui sotto al video, ti rispondo sempre molto volentieri, il più, insomma, il tempo più breve possibile oppure puoi scriverci a infochiocciolidablance.com io, membro del mio staff, arriveremo a te e darti tutte le risposte. Quando vai nella pagina di iscrizione, l'iscrizione è automatica, quindi trovi direttamente il pulsante acquista adesso, oppure puoi anche acquistare con bonifico, il procedimento è più lento, quindi se vuoi approfittare della promo lo devi acquistare entro oggi col bonifico perché chiaramente sai, i bonifici hanno sempre quei 3-4 giorni lavorativi di elaborazione dei dati e quindi non è possibile poi approfittare della promo oltre. Ok, se hai delle domande, delle richieste, sono sempre qui sotto nei commenti, magari non riceverai subito l'unica cosa che non riceverai velocemente una risposta perché ora devo correre da altri di voi. Anyway, io, membro del mio staff, arriveremo a te, però insomma prima ti iscrivi, meglio è. Approfittane adesso, ti mando un bacio qui dal mio studio a Roma and that's all folks for today, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao! 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 Ciao!